Potere Pelato, buongiorno di nuovo, sono tornato anche di sera, pomeriggio, giorno, notte. Eee, 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 comunque è la seconda settimana, non la prima, oggi è il 6, è lunedì, seconda settimana del mese. Comunque, non lo so se per Panini è la seconda o no in realtà, lo capiremo oggi. Ciao, quanto tempo Rocket Raccoon, quanto mi sei mancato! Da grande un Samuele aveva un grande ban, esatto, lo vedi, è dietro di te. È nella tua home, vabbè, primo lunedì. Sì, ma non si conta dal lunedì, sarebbe assurdo, nella fumettologia, perché non esce niente il lunedì. E le uscite della settimana scorsa erano tutte di maggio, tecnicamente, per cui, not prima settimana di maggio. Comunque, buonasera, come state? Avete passato una buona giornata? E la vostra... ciao! Spero non vi siete persi la live di questa mattina. Che si è visto stamattina? Le uscite Marvel. Tra l'altro, Big News Marvel, anche se scontata. Roberto Devi 18, grazie per la sub, due mesi, potere pelato. Che è questi record di Sam? Ma hai visto così tante sub su questo canale da anni? Grazie a tutti. Tra l'altro ho visto che mi hai rimesso il like Texviller90, che se mi aveva pure tolto il like, non so. Ho visto tre ore fa mi hai rimesso il like, forse l'ha tolto e messo per sbaglio, può essere. Ciao Mioschi, ti ho già salutato? Probabilmente sì. E comunque, qual è la news Marvel? Dai, dimmi sta news Marvel, almeno la vediamo. Ma ve lo dico oggi e andiamo un po' rapidi, perché non vorrei fare tardi, che poi devo fare il video e non ci voglio. Ne meriti molti di più di abbonati, grazie. Ditelo a tutti i vostri amici, condividete i video, passateli alle... Ah, non mi sono neanche accorto che c'era il link, sono completamente rincoglionito. X-Factor! Il titolo... Posso dire che questa cosa qua mi inquieta? La presentazione? Bu, speriamo in bene. Mi fa paura. Vabbè, Wolverine. Ma in che senso? Ma non le avevano già annunciate, tra l'altro? Se non mi ricordo, ma non c'era? Non penso che Wolverine non fosse segnata a fare le serie. Cioè, non c'era scritto Wolverine. Vabbè, chi ci credeva? C'è una serie di Wolverine tutti i mesi da 30 anni. Vabbè, me ne ha senso. Se non l'avranno messa... No, X-Factor non è così scontata. Non c'è sempre stato un X-Factor. Anzi. Anche perché in genere fanno cacate. Però non c'è scritto niente. C'è un po' di info, sarebbero state gradite. Che palle. Possono farne altre 12 di serie mutanti? Ah, vedi che lui mi dice che c'era nella presentazione degli X-Men. Ah, non ci vuole tanto. Basta che ribe... Però non so dover ribeccare l'articolo. X-Men... Se ci fosse un link... Ma c'era anche X-Factor, ragazzi. Cioè, c'era già. Va, è qua. Wolverine X-Factor. Non c'era il te, non c'era... Quando. Però... C'erano già tutte. Cioè, non si sapeva quando. Perché c'è scritto a cominciare dall'estate. Quindi hanno detto X-Factor a... A Agosto e Wolverine a Settembre, però. Che tra l'altro che... Minchia. Dai anche qualche info in più, già che ci sei. Mettici almeno gli autori. Madonna. Proprio... Cazzo, col contagoccia, eh. Questa è Tempesta, Fenice, NXY e X-Force. Fin troppe. Fin troppe. Cioè, più che altro è che sono tante tre serie degli X-Men principali. Non c'è un New Mutants, ma lo faranno Y-ZX? Ah, però in effetti una è abbastanza New Mutants degli X-Men, in teoria. La fanno annusare piano, sì, 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 sì. L'Era dell'Ai. Ma sai che... Non è l'Era dell'Ai perché... Cioè, seriamente... Sapevo già che uscivano sia Wolverine che X-Factor. Eh, che hype mi dai se mi dici... Escono uno ad agosto e uno a settembre, eh. Come annunciato dall'estate. Ok. Sono molto colpito da questa news. Però... Che newsona? Poi cos'altro abbiamo? Film, film. Newsweek. Qui abbiamo Cerbero. Comunque ho scoperto che esiste già un podcast che si chiama Cerebro. Però non è Cerebro Podcast. È semplicemente il podcast Cerebro. Però è inglese. Però se voglio fare Cerebro Podcast possiamo farlo, secondo me. Non credete che si offendono? Chiamandolo proprio Cerebro Podcast. In italiano, poi. Poi loro leggono sicuramente Cerebro. Perché è inglese. Infinity Saga Concert Express. Beh, devo dire, molte info super interessanti, eh. L'Airbnb dell'X-Mansion. Poi c'è... A me i miei X-Men. Ha fatto la scammata? In che senso? PicPak, basta parlare così giovane. È una certa età anche tu ormai, eh. Su. Uno di cinque. Che palle. Ma poi Bloodist Event in Marvel History che... Ma per favore. E invece non era vero? Ah, però, grande. Io sempre doppietta. Sono un... Vabbè. E viva. Deadpool and Wolverine World War 3. Wow. L'invincibile Iron Uomo. Che è contemporaneamente... Fall of X e coso? Ah no, ma sono pubblicità dei vari numeri, ok. Pensavo fossero collegati a Blood Hunt. Moon Knight che fa le cose. X-Men che fanno le cose. Spider-Man... Che cos'è? Che cosa stanno guardando? Perché cosa vedono i miei occhi? Perché non vogliono vedere quello che... Che cazzo è questa? È un'altra Capitana America con le ali? Ah. Che cazzo... A parte che che cazzo di fisico c'è a Spider-Man? La Madonna! Basta con queste donne scolpite che creano nelle altre ragazze il desiderio di diventare muscolose. Cosa molto sbagliata dal mio punto di vista. Ma è rock! Ah, dei rock, sì. Sì, è inquietante. Non so perché l'ha fatta così pompata. Non so se ha... Magari ha una ragione della storia, però minchia. Una volta la facevano col culone in primo piano, adesso la fanno col turista con dodici... addominali. Mamma mia! Un po' tantino. Vediamo, PicPak, la tua variant. Sei contento? La trovo non fisicamente realistica. Non potreva tagliare in questo modo il braccio con gli artigli. E quanto cazzo sono distanti gli artigli di Wolverine così? Sì, è carina. Forse non... Posizione un po' strana, però sì, è carina. Ho visto di peggio, effettivamente. Sì. Non pete noi ball. Non pete noi ball, fatemi fare quello che voglio. È il mio canale, faccio quello che voglio. Il problema è che, sapete qual è il problema? È che non si capisce un cazzo, cioè... Purtroppo Marvel non è che sia... Volete Dracula... Che quanto mi fa schifo il Dracula Marvel moderno? Con sti cazzo di capelli lunghi, bianchi... È proprio brutto. Cioè... Perché Dracula me l'hanno fatto diventare... Invece nel classico Dracula... Dracula... Dracula. Un po'. A un certo punto hanno detto che Dracula era così. Lo trovo... L'ho sempre trovato imbarazzante il Dracula qua... Bianco cappelluto. E no, non posso, PicPak. Sarebbe pubblicità. E se non mi pagano, io non faccio pubblicità. Sembra Legolas incazzato. Più stile Bram Stoker? Sì, però... Ma neanche. Ah, non è brandizzata. Ok, però non dobbiamo dirlo che di... What? Comunque... Oggi non si... Niente cazzi. Puntiamo subito alle uscite e vediamo un po'. Perché, ve l'ho detto, devo fare il video... E no, no cazzi. Vediamo se ti diamo fuori davvero. Vediamo se ha funzionato la mia incredibile elaborazione grafica qua. Vediamo. I mangi! Sono giusti? Sono quelli di questa settimana? Sì, sono quelli giusti. Grande, grande pelato. Sì. Allora, vediamo queste ricche uscite settimanali. E iniziamo ovviamente con Planet Manga e delle ristampe. Chi non ha voglia di ristampe? Una ristampe anche questo, non ho idea di quando esce. Io ho Spy Family. Boh. Cioè, non che mi importi, però per curiosità. O è nuovo? Ho visto che c'era anche l'8. No, siamo arrivati al 12. Ristampe. Poi abbiamo Naruto, 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 One Punch Man 20. I Fiori del Male 1, solo ristampe. Shai, 16, è nuovo. Ah, Togenanki è nuovo. Grande Togenanki. La mia serie preferita, Togenanki. Voi ho bella. Poi abbiamo il Cavaliere dello Zodiaco, lo Scambas, 14. Sakura, Saku 8. Censuman 16, no? Ma l'ho preso, tipo, il 15. Sapete che ho i miei dubbi? E guardo. Fatemi controllare. Non ci mi cazzo in curo. Censuman. Censuman 15. Sì, l'ho anche letto. Incredibile. Ma davvero l'ho letto. Secondo me non è vero. Secondo me ho sbagliato e ho letto qualcos'altro. Va bene. Strano. Però è anche vero. Si ricorda anche il 91 Albi. Si ricorda più di me. Poi, cos'altro arriva? Arriva... Irani e Cagliura 3. Cagliura? Irani e Cagliura. Che bel nome, Cagliura. Per nulla cacofonico. Shangri-La Frontier 14. Anche col pass, perché senza pass non c'è amore. Poi arriva... Mica, tutto arriva. Shangri-La Frontier 1. Versione 1 euro. Compratevelo, che vale la pena. Però aspetta che apro le novità, così poi le novità le faccio vedere per benino. Le cose nuove, nuove davvero. Allora abbiamo questo no, questo no, questo no. Shangri-La Frontier 1 è da segnalare. Poi abbiamo Thunder 3 Blind Pack 1. Spero di trovarlo, che se non lo trovo è drammatico. Sì, perché dici altri cose. Se non c'è Denji ti piace. Sì, è vero. E poi... E anche Jimbocio Sister. Jimbocio Sister, voglio provarlo perché è di Kei Tome. Ed è sempre bravina lei, per cui... Sì. E poi c'è anche in questo angolo di mondo Omnibus. Volume a 19,90 euro. Cartonato? No, brossurato, fresato. 15x21, 432 pagine. Il capolavoro è questo tratto, l'omonimo e problemi. Fin d'animazione. Ma l'ho anche visto il film, mi sa. Credo. Ma certo che lo provo, non troverò bene. Però ho detto, se non lo trovo non è un dramma, ecco. Cioè, spero di trovarlo. Sì, mi ricordo l'anime. Credo. Quindi è l'originale, è il manga, quindi. Ma magari lo prendo allora. Sì. Non è solo 15, quindi... Blackpast, stavolta. Bravo, Ken's Comunica. Io? Ah, io sì, solo 15, vero? No, di più mi sembrava esagerato. Poi, cioè, se non... Però ammetto che se non trovo la Ultra Limited di Thunder 3, mi dispergo. Con il culo che ho ne compro una e trovo la Ultra Limited di questo manga incredibile, bellissimo. Avrei preferito la Ultra Limited di Batman, ecco. Comunque. Non credo che troverò la Ultra Limited, però... Se la trovo mi deprimo, perché... Cerco di venderla in cambio di una qualsiasi di quelle di Batman. Scambio Blind... Non è per Blind di Batman. Limitata a quella da 500. Ah, non abbiamo finito. C'è una spagina 2 anche. C'è anche, a scuola di manga con Shonen Jump, il nuovo Blue Exorcist e l'incredibile, finalmente... Make the Exorcist Fall in Love. Finalmente. Non ci hanno fatto vedere le cover variant, perché faranno cagare, sì. No, no, non lo direi mai. Saranno bellissime. Scuola di manga con Shonen Jump potrebbe anche essere interessante, però... Non lo so. Boh... Magari è carino. Però lo lascio ai colleghi mangaka... Fissati. Ne parleranno loro. Io sinceramente non c'ho da rispenderci 16 euro. Poi c'è Make the Exorcist Fall in Love. Boh, vediamo se mi ispira. Dipende tutto da quanti soldi devo spendere. Hai variant? Perché è variant? Così a caso? No, secondo me è nuovo. Ah, variant, invece. Ma nel senso che era... Ma perché? Ma vuol dire che il normale non c'è ancora e che deve apparire, allora? No. No. Cioè fanno uscire la variant due mesi dopo. No. Va bene. Va bene. No, è semplicemente... Allora, se non sei anormale non è doppia vendita, è... Allora, il concetto è sempre quello, ragazzi. Capiamoci. Variant, manga, che non varrà mai un cazzo perché i Blue Exorcist lo scagano in tre. Uno non dovrebbe comprarla. Perché la risposta all'editore che ti fa uscire la variant due mesi dopo è... Te la tieni. Dovrebbe essere questa, se vivessimo in un posto normale. No, no, lo so, lo so, Principe dei Draghi, eh. Però la risposta dovrebbe essere esattamente questa. Dovrebbe essere... La fai uscire insieme all'originale? Io scelgo quella che mi piace di più. Non questa, probabilmente. Oddio, in realtà la cosa era brutta, però. Cioè, nel senso che questo qui faceva abbastanza cagare, effettivamente, come cover. Chissà se l'ho preso, sì, in teoria sì. È proprio brutta, eh. Tra l'altro. Che cazzo è? Una donna mosca? No, questa è la figa, però... Ma cos'è, tipo anime cover? Non lo so. Meglio di quella lì, sicuramente. Però, sti cazzi. Va bene. E... ok. Direi basta. Va bene. Beh, così ne carine ce ne sono. Questo non l'ho letto. Potrebbe essere anche interessante. Alla fine 20... Boh, oddio, è un po' tanto. È 20 euro 432. 15 per 21. Boh. Ci potrebbe anche stare, in realtà. Però non credo che lo recupererò adesso. Magari me lo recupero. Ma meno... Allora, io in realtà, sul numero a caso, per me non è un problema. Il cartonato costava 25. Ok. Questo? Ah, ma quindi l'hanno sempre fatto uscire in versione grande. Era anche più grande, va bene. Era anche più grande, era 17.5 per 24.2. Magari si trova usato. Vabbè, ci sta. Costa meno. E va bene. Poi. Belle le uscite... Cos'è? Comics? DC? Beh, belle le uscite DC di questa settimana. Mi piacciono? Sono... Fascinanti. Ma non dovrebbe uscire Batman, scusate. No, non c'è. Batman 94 c'è la settimana prossima, in effetti. Vabbè, DC Comics, Missing Nation. Vuzzino, la risposta è... Ragazzi, io vi voglio bene. Ma volete capirlo che la domanda, a qualsiasi domanda su Panini, la risposta è che cazzo ne so? Cioè, io vorrei che ve ne rendeste conto di questa cosa. La risposta a tutte le domande su Panini, dal punto di vista di ristampe, ritardi, è sempre e sarà sempre, che cazzo ne so. Perché Panini non comunica le cose. Cioè, loro non hanno alcun tipo di informazione puntuale sul 99% delle cose che la gente si chiede. Quindi è inutile chiederlo. Cioè, è impossibile chiederlo. Cioè, è senza senso. PicPack, non ti ci mettere, anche tu ti prego. Anche con sta emoticondim... D'ora in poi io banno chi mette questa emoticondim... Ve lo dico. Questa emoticondim... Mi ha rotto il cazzo. Allora, la prima volta che ve la vedo fare vi sospendo per 24 ore. E la seconda volta vi banno. D'ora in poi è così. E sapendo per esperienza che gli spillati non li ristampano... Mi sta sui coglioni, mamma mia! Sapendo che per esperienza gli spillati non li ristampano... A volte li ristampano. Raramente. Quello di Wonder Woman io ho i miei dubbi. Però, io ribadisco, non c'è un cazzo di modo di saperlo. Perché Panini fa quel cazzo che gli pare. E non lo comunica a nessuno. Perché è esaurito il numero di Wonder Woman? Boh! La gente me lo chiede nei commenti del video di YouTube. Beh, io che cazzo gli devo dire? Cioè, non sono Panini. Non lo so. Chiedetelo a loro. Scrivete a Panini. Cioè, il concetto è sempre quello. Se rompete i coglioni a Panini, probabilmente prenderanno una decisione, ma... E non sforzi, non so... Ma forse sei tu che me l'hai commentato su YouTube. Non lo so. Cara raga, di Wonder Woman ne hanno manati pochissimi perché non vende un cazzo. Poi all'improvviso ci mettono Tom King e non aumentano la tiratura e quindi... Boh. Ciao Riku. No, non mi pare. Eh? Che cosa? Ah, ok. Non sei tu che l'hai scritto. Comunque... No. Batman settimana prossima. E Batman 93 è uscito settimana... 93 è uscito il 25 aprile... 16 aprile. Ok, quindi niente di C-Comics. Eh vabbè, pazienza. Ne faremo a meno. Quindi. Morals! Morals! Abbiamo... Ma scusa, non dovremmo... Eh... Oddio, sono confuso. Sì, sono quelle di questo mese, Master. Ok. Allora, SPAI di anno da matricola, fondamentale. No, è Wazzino. Il problema è che se tu la mandi... Io te lo dico, non mandarla al social manager. Perché come vi ho già ripartito un milione di volte, quello che vi risponde conta come un... Boh... Lanciare un dado. Provaci. Perché se lo scrivi su Instagram, lui ti risponderà a caso, perché non ne ha idea e non si sa nemmeno chi cazzo sia che risponde. Secondo me è uno a caso. Dicevamo... SPAI di anno da matricola solo se vi avete voglia di un ennesimo o un ragno alternativo, giovane, non incontinuiti, che ha una cotta per Gwen Stacy. Dove al liceo non andava a scuola con Gwen Stacy, credo, ma va bene. E... Boo. Poi... E' successo che se usi ancora quell'emoticon vieni sospeso per 24 ore, Samuele. Poi vedi tu. Consigli d'amore da Iron Man. Bello. Sì, 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 sì. Poi abbiamo Fantastici 4 di Morrison. Giusto? Era Morrison. Mi ricordo più, sì. Con i disegni di Jaili. Jaili? Per World War 2, eh? Ah, per Wonder Woman 2. Sì, perché magari c'è scritto Torna disponibile XY. Questo è molto bello. Ci sta in... Must have... Non è proprio super economico, eh, perché sono 112 pagine a 15 euro alla fine. Però... Meglio di un calcio nelle palle, ecco. Poi abbiamo l'inutile Jessica Jones alias Investigation, che non si merita invece di essere inutilmente ripristampata in questo modo, con 9 episodi di una serie che ne ha tipo 34. No, questo è inutile, cioè... Perché il problema è che che senso ha stampare una serie completa di uno stesso autore solo un pezzo? Quando poi in questa collana non stampare... Quando poi in questa collana non stampereete mai quelli dopo. È un po' inutile. se invece Master facessero questa cosa avrebbe anche un senso ma dato che funziona così eh sì 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 non è una novità Samuele ma si specifica la cover è molto bella ti ricordi dei disegni dentro? no non sono in questo stile i disegni dentro perché le copertine sono non lo so ma dentro è di Gairos che non ha questo stile qua ma tra l'altro c'era Bugly nei primi nove numeri non mi ricordavo no 91 Albi non è allora porca puttana perché io devo sempre ribadire le stesse cose mi sono rotti i coglioni ragazzi i MastEv non sono un modo per sondare un cazzo i MastEv sono una coproduzione internazionale e quindi vengono fatti ad minchia anche se nello stesso mese e c'è la stessa cosa in un'altra edizione quindi no i MastEv non vanno presi come un sondiamo il terreno perché poi che cazzo sondi il terreno se uno si compra questo poi non ti compra l'omnibus ma a parte quello i MastEv vanno presi per quello che sono una coproduzione di tutte le etichette panini globali tedesco francese italiano e spagnolo che li fanno uscire insieme sono coproduzioni quindi anche il piano di titoli non viene fatto pensando a noi viene fatto pensando globalmente già detto un milione di volte l'unica differenza in realtà in Spagna in Spagna hanno più MastEv perché in Spagna avevo visto fanno questa roba per cui fanno i Marvel MastEv anche di serie complete per cui fanno primo volume degli X-Men di qualcosa secondo terzo e funziona da noi però non hanno fatta questa cosa questa se la fanno da soli gli spagnoli infatti se andiamo su vedete hanno tipo i vendicatori segreti 1 hanno i giovani vendicatori 3 la patrulla X la impossibile patrulla X che sarebbe anche a Knicks Force le Nuevos Vengadores 14 cioè loro fanno molta più roba così però hanno anche quelli normali giusto in teoria credo la patrulla X ma lì di no dice che hanno solo questi però non sono in ordine sono un po' a ordine admin credo les Nuevos Vengadores si patrulla X e X-Force poi ci sono volumoni tra l'altro costa 30 euro per 344 pagine da noi costerebbe meno però non lo fanno però no ma sono gli X-Men questi scusate non è X-Force sono gli X-Men di 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 si è X-Men non è X-Force e si infatti questo è un can X-Men cioè no no cos'è no è un can X-Men si la impossibile patrolla X eh fanno dei volumoni un sacco di pagine, si non è male come cosa da noi non li fanno però quindi mettetevi l'anima in pace, questa roba non la vedete da noi perché in Spagna li fanno da un sacco è che da noi probabilmente in Spagna hanno meno hanno meno edizioni e quindi hanno usato questa per fare un po' tutto da noi non lo fanno perché avrebbe relativamente meno senso ma va bene alcune sono uguali a quelle nostre ma le ultime non le vedo aspetta ma di quando sono questi? 2024 ma no ma non sono in ordine ecco perché chissà se il sito spagnolo funziona meglio del nostro vediamo, no ma questa non è la ricerca sono così hanno anche gli NFT se volete su panini in Spagna non volete gli NFT della Liga? feccia dell'assamento l'obezno grande l'obezno todavia la convida ma questo scusate esce a luglio ok 18 luglio l'obezno ma questo da noi è già uscito è perché sono un mese indietro noi siamo avanti adesso non si capisce bene perché ma lo svendecatore segredos 2 la impossibile patrulla x8 l'obezno è il veico è il veico logan si vedeva 2 questo è uscito questo è uscito anche da noi no questo l'hanno annunciato da noi sono tipo i quando l'hanno annunciato no forse no mi confondo o l'hanno già o è già uscito da noi questo boh sono un po' incasinato forse non sono tutti però forse non capisco però può essere che alcuni li abbiano già in altre edizioni e quindi non li rifanno potrebbe essere dice che è una ristampa potrebbe anche essere boh vabbè comunque veneno agente veneno certo lo bear wolf vedi nell'obezno sai che novità non vedi l'obezno io soy l'obezno io soy l'obezno io soy l'obezno io soy l'obezno Deadpool e massacra e venome veneno veneno ciao soy veneno come sta poi abbiamo la impossibile patrulla X Spider-Man è è il castigador che bello va bene fatemi chiudere queste cose che vorrei ritornare a fare la persona seria patrulla X ok questa è la manga come siamo finiti qua? ah perché mi ero messo alla fine ok va bene torniamo a Spidey e alle nostre avventure nei fumetti italiani Jessica Jones ok poi abbiamo Marvel Comics manga tributes che costa 27 euro 29 euro vabbè è un art book con le illustrazioni di famosi autori giapponesi sui personaggi Marvel figo questo magari me lo ordino in separata sede non adesso per rito caliente buono il cane caldo pensate da noi lo chiamassero cane caldo ciao vuoi un cane caldo? no grazie poi abbiamo va bene è la replica di New Mutants è la replica della prima apparizione del punitore cioè la prima apparizione di Deadpool e la prima apparizione del punitore dove stanno? qua no no qua Deadpool che non è proprio bella diciamolo e la prima apparizione del punitore già un po' più caratteristica diciamo è il castigador ghiottone il vecchio Logan esatto ghiottone ghiottone old Logan cos'è lo hebdel mamma mia è l'ifield cos'è lo hebdel è un ibrido fra Jeff Loeb l'obdel e qualcun altro ma non c'è Scott Lobdel dove l'ha visto? niente di questo è di Scott Lobdel è l'iniciezza questo è di e l'ifield sì ma non c'è l'obdel ribadisco non c'è da nessuna parte e mamma mia sto cazzo l'obdel era proprio bravino invece cioè rispetto a quei a quei merdoni di Jim Lee e quell'altri era molto meglio l'obdel eh ti piace questa PicPak che problemi hai? hai pensato a una visita oculistica? cioè poi per carità probabilmente me la piglio anch'io per il fatto di affetto per il periodo ma minchia se è brutta questa cover di Love cioè è talmente brutta da diventare bella ma è veramente brutta quello è l'antico no è Gideon ma che battuta è questa e poi quella che cazzo è che cos'è che ti fa ridere di quello è l'antico? boh vabbè e chi cazzo è l'antico? quello del film? che sarà l'unica cosa che hai visto? poi Timeless il futuro dell'universo Marvel svelato con l'incredibile Cage nudo con la catena e il pugno d'acciaio pilato con la barba e dietro c'è Moon Knight Iron Man poi abbiamo X-Men di Duggan in versione deluxe figo cioè figo non tanto però belli disegni no credo che sia semplicemente che l'ultimo è uscito da noi è uscito terribilmente in ritardo Timeless Timeless è lo speciale che è il terzo che fanno Shawano però anche voi e il terzo che fanno fondamentalmente serve per fare un po' di preview e di hype sulle prossime saghe Marvel comunque questo è il volume deluxe con la ristampa degli X-Men di Duggan poi abbiamo Silver Surfer Legacy della rinascita della lega agenda ma in inglese com'era? Silver Surfer Rebirth Legacy sì bel titolo perché c'è Legacy più che altro che era il figlio di Capitan Marvel ciao Mattia poi abbiamo Judgment Day in versione cartonato che potevano farlo deluxe sarebbe stato anche se lo facevano deluxe lo stesso magari lo compravo anche in versione Marvel Collection se lo tengono molto chiaramente se lo tengono poi abbiamo capita Marvel 1 il nuovo volume con la nuova fantastica saga anche lei è con le ascelle di fuori comunque ormai tutti con le ascelle di fuori ma poi come cazzo è vestita cioè ah no è un capotto ok c'ha la manica di qua non la ah è qua non la vedevo c'è una giacca ora però ha le bande e quindi finisce nel tipo nel da qualche altra parte quando le sbattono che merda io veramente perché la gente perché che fanno scrivere roba a gente che dovrebbe pulire i cessi così come idea eh non credo proprio Samuel la smetti di dire stronzate porca puttana io te l'ho già detto più di una volta se tutto quello che scrivi diventa una battuta o è una roba che scrivi a caso dopo un po' allo streamer inizia a stare sui coglioni io te lo ricordo ma cioè non è che tutta la gente che vedi sopra di te ogni cazzo di frase è o una battuta o una stronzata ahhh dio mamma mia eh la tutta sotto no anche perché c'ha sti cazzo di bracciali di merda eh ma vedi qual è il problema PicPak che se uno scrive sempre è un po' la storia di Pierino e Lupo secondo me che ha al lupo al lupo poi non è vero poi la gente prende tutto quello che scrivi per una stronzata è un po' un problema che io vorrei che la gente capisse quando è sul web ma la gente non ce la fa non ce la fa a capire che la tua reputazione dipende da quello che fai e da come ti comporti e succede anche sul web però fate eh però se poi uno ogni volta che si viva qualcosa ti manda a fanculo una motivazione forse viene comunque le negabande che schifo tra l'altro spoiler te lo dicono già che finisce nella zona negativa mamma mia che dumaroni poi Blade oh arriva Blade bello Blade bello Blade con la nuova serie di Elena Casa Grande e Brian Hill ma tecnicamente è la prima settimana del mese quindi perché non ci sono spillati c'è solo Daredevil oh oh arriva anche Labs dell'Omnibus di X-Force che settimana di merda madonna fa vedere perché tecnicamente è la prima settimana del mese per Panini questa cioè non è davvero la seconda porca puttana infatti settimana scorsa è uscito un cazzo ma esce una cioè fanno uscire una quantità di volumi senza senso ok comprerò un cazzo alla fine perché cioè non è che posso comprarmi tutti i volumi cartonati di sto mondo anche il volume del processo di Magneto sì questo lo recupero con i prossimi sconti Panini prossimi sconti Panini processo di Magneto no non è perché ribadisco non è che per loro conta come il primo lunedì io vi mando affonculo e dicevo il concetto è se le settimane hanno cinque settimane cioè se il mese ha cinque settimane e ci sono cinque giovedì perché il punto è tutto lì quanti giovedì ci sono nel mese a maggio ce ne sono quattro in realtà no non è vero questa è la domenica ce ne sono cinque cadendo cinque lunedì uno salta o uno diventa proprio la settimana in cui lo mettono lì a culo e quindi il 2 è diventato la settimana culo anche perché c'era il primo di maggio di mezzo un magento grande magento grande magento miei x-men utilizzando i poteri di cerbero sento che si sta avvicinando il nostro nemico più crudele magento non l'ho registrato porca puttana miei x-men grazie ai poteri di cerbero sento che si sta avvicinando il nostro più grande nemico magento ok panini marvelli dicevamo vero è per quello che si sono confusi e va letto prima del volume degli x-men daggano è indifferente tecnicamente prima credo però è abbastanza indifferente perché come vi ho già fottutamente detto un milione di volte le fottute serie di x-men esiste solo quella di x-men tutto il resto è ad minchia porca puttana sempre a ripetere le stesse cose sempre a ripetere le stesse cazzo di cose grazie ragazzi io ve lo ribadisco quelli che vi hanno detto per tre anni e no è un casino leggere x-men sono troppe serie quelle mutanti è impossibile sono stronzate tutte le serie marvel di panini cioè tutte le serie mutanti ognuna faceva quel cazzo che voleva cioè x-men non penso non avesse messo nessun tipo di peso su quello che dovevano fare gli altri ognuno faceva quel cazzo che voleva e infatti quando sono arrivati a quella merda di crossover che è ten of swords minchia non si capiva un cazzo c'ho i poteri magici eh ma il processo di magnito tra l'altro che poi è x-factor se non sbaglio sono i primi sì sono la serie di x-factor e poi trial of magnito è talmente ridicolo trial of magnito come anche tra l'altro loro ci mettono una pezza in trial of magnito che non si capisce che cazzo vuol dire è tutta una cioè alla fine c'è una fantabubbola magica che non spiega niente ma che dicono abbiamo fatto questa cosa top vi giuro così e vi chiedete ma cos'è questa cosa non me lo ricordo cioè nel senso che era una roba connessa alle risoluzioni ma che la nominano praticamente solo lì e che non ha nessun senso e tutto dipende dal fatto che c'è ovviamente morta scarlet ma poi non è morta sapete che non è morta scarlet in realtà in questo fumo cioè poi torna so che non ve l'aspettavate visto che c'è la serie regolare in corso adesso ma non è davvero cioè alla fine non è una morte definitiva ecco che vita difficile comunque dicevamo anche a next force fichissimo da recuperare ma non adesso non c'ho i soldi e basta direi marvel abbiamo finito quanti volumi madonna meno male che in realtà cos'è che devo cioè di tutta questa roba qua sicuramente devo prendere timeless prenderò le due replica se le trovo e magari blade compro le altre no comunque poi ah panini comics una bomba gli infallibili ok bello fallibili se vuoi replica te lo porto sabato e no lo compro in fumetteria costa 3 ore e 50 cioè mi cambia la vita se vuoi portarmi blade va bene però c'è la mente frega cazzo magari te la regala eh ho capito sempre 3 ore e 50 sono cioè non è che mi cambia proprio no perché non mi arriva vedi e poi abbiamo ma poi vuoi darlo a quello che te lo porti pokemon pokemon manga di 72 principessa di 89 topolino 3572 con un pezzo di castello topolino sandopaper amleto battista maggiordomo esistenzialista fuga dactopia o dactopia oh ma il manga delle witch me l'hanno messo qua così di nascosto il fondamentale manga delle witch anche con variant cover che però non hanno messo perché pareva brutto metterle oh il fondamentale manga delle witch ma ragazzi non so ma come lo sposto che palle no non lo sposto non c'ho voglia lo ricerco dall'altro lato e lo faccio faccio prima che spostarlo bello il manga delle witch assolutamente un must buy immediato se non l'avete ancora comprato correte ora di narlo ma che ne so giulio g sarà arrivato la versione animata e quindi ci hanno fatto il manga le carte d'autore disney questo potrebbe essere interessante però non lo so e abbiamo finito compagnini no che peccato sai che ho la sensazione calvinoe che se tu ti basi sul numero di donne millennial che ancora sono affezionate alle robe che leggevano quando erano ragazzine e che quindi ci spendono dei soldi credo che la tua azienda fallisce non so perché ma ho questa impressione perché se coi maschietti un po' di più sta cosa funziona io ho la sensazione che con la maggior parte delle donne questa cosa funzioni molto meno ma potrebbe essere una mia errore di valutazione però mi da questa idea vi odio vi odio tutti dovete morire marci mi dissocio da questa cosa ma dovete allora il prossimo che mi dice che ha trovato la variant di batman a robin io lo banno perché mi avete rotto i coglioni basta flexarmi in faccia sta cosa mi avete rotto le palle sei tipo il quarto du maroni no è che c'hanno sai cos'è giulio è che le donne hanno una vita in genere ma non ho mai detto questa cosa fumetti bonelli e ho capito un messaggio su lui di quelli che dicevo ma lo sai che ho trovato la variant 500 di batman tu l'hai trovata no non ho trovato manco uno ragazzi io in tutti i blind pack che hanno tutti non ho mai beccato manco uno manga senpai alla fine l'aveva aggiunto la lista non credo esiste cos'è questa settimana esce Dylan Dolcor first first fist poi dragonero e quindi c'è anche kalia noto poco rispetto in questa chat per me per me molto poco effettivamente mi maltrattano molto sono molto antipatici e Dylan Dolcor first che bello sono molto figo sesso scescio scescio Dylan Dogoso donne popute Dylan Dogose case Dylan Dogose persone che si guardano in stile Dylan Dogoso ma dragonero è mensile? sì gli integrali Marvel non sono lo stesso formato dei bonelli oddio credo di sì più o meno cos'ho di integrale aspetta mi pare di sì comunque sì direi di sì direi identico proprio uno a uno sì sceval esatto è questo per questo che a me ogni tanto certe domande mi fanno strano è che tutti i bonelli sono mensili quelli normali cioè la serie base è mensile per cui l'old boy veramente è una volta ogni due mesi ogni due settimane ma l'old boy è una sotto è una è una sotto categoria di Dylan Dog non è un non è canonico tutto è canonico non esiste ragazzi non esiste il canone in bonelli tutto è canonico ma banalmente l'old boy è una sotto etichetta di Dylan Dog non è è come se fosse lo speciale ma ne hanno troppe di storie Fufu cioè finché vendono lo fanno ricordati di base sono soldi cioè se tu chiudi l'old boy guadagni la metà ora non so quanti comprano l'old boy quanto Dylan lo saprà Bonelli ma se lo fanno è perché vende e se vende non ha senso che lo chiudano sì raga tutto bellissimo ma il concetto rimane sempre quello che se tu chiudi l'old boy guadagni meno e se vende non lo chiudono c'è ma canonico non vuol dire serie regolare diciamo che in Dylan Dog la serie mensile è quella è quella non canonica è quella classica è quella principale la serie principale è quella ora ci sono serie che non c'è non hanno serie secondarie ma altre sì Tex ne ha 72 Dylan Dog c'ha lo speciale e c'ha l'old boy e c'ha il color fest però la principale rimane il Dylan Dog e basta e quella è mensile e Tex è mensile e sono tutte mensili sta in pausa lavoro Amazon nessuno corso qui bravo Luca il pelato hai fatto bene comunque mio dio questa sera mi sparo nei piedi comunque tra l'altro non finirà mai questa live ho un'ora che parlo drago nero che bello l'anello di fuoco ci sono i demoni fanno cose vedono gente spaccano denti in mare e c'è un vulcano e si combatte in mare bello poi esce altra roba esce Martin Mister la Divina Congrega 4 bella la cover però l'Orlando innamorato proviamo le storie Tex Tex Nathan Nero ma iniziamo già la prossima settimana ma il 10 è questa sì il 10 sì ok va bene e abbiamo dato anche con Bonelli viva Bonelli giusto per curiosità quanti fumetti hai nella tua collezione non ne ho la minima idea Slack Dragon Bonelli c'è a Torino non credo non lo so non penso non so non ti manca il Cartoon Mix dovuto vanno alla soluzione del libro però non ho idea non lo so guarda invece di chiederlo a me apri il sito di Bonelli apri il sito del salone e cercalo non ho idea sinceramente no volevo in realtà ecco cosa vedi manca il link che non ci serve quasi mai ma manca il link a Calia e a Cosoli come cazzo si chiama Bugs eh bisogna mettere il link a Bugs Comics in edicola oggi cosa eh tanto non c'è scritto niente ma sappiamo che arriva per cui no non mi ricordo non mi pare però non lo so ma esiste un fumetto manga sugli alieni che non sia alien ma che cazzo vuol dire cioè in che senso c'è un fumetto in cui appaiono gli alieni sì no la casa grande fa solo le cover di Calia ma non so se le fa tutte sono tutte sue non disegna il fumetto se l'ha disegnato tutto da Calia sì se l'ha disegnato dalla casa grande ciao buonanotte cioè ma non c'hanno i soldi per tutto cioè penso che la casa grande si fa pagare abbastanza e non credo che sia gestibile averla fissa su un mensile tra l'altro su un mensile di 96 pagine davvero difficile eh prenotare un film c'è pure il fumetto? sì aspettate fatemi fare così no cosa ho fatto no ho sbagliato ok e va bene da quando scrivono nelle uscite su Instagram bugs io odio tutti odio tutti odio odio tutti yeee esce il 9 maggio aspettate no aspettate che cambia ora metto questo aspettate dov'è? qua edito ok così dovrebbe aprirsi direttamente questo evviva si apre ok poi star comics white roves in bloom bundle record of ragnarok più lo spin off bellissimo ma non c'è lo ma non esce da solo tra l'altro è in anteprima addirittura wow che culo quindi settimana prossima esce lo spin off bellissimo e la serie anche cazzo potrei no non lo voglio lo spin off no aspetta settimana prossima fanculo fare un cazzo va bene eee ok poi c'è il nuovo numero di kaiju girl caramelize shikimori fa le cose sweet tom e king's beast non devo coprire un tubo ottimo cioè volendo questo però non lo so poi ma un sacco di uscite star complimenti jpop allora jpop è questa si allora esce black letter il nuovo manga di mojiko la più grande io lo compro e vi giuro che si fa cagare diventa una di quelle robe che mangaka a confronto è un capolavoro perché sapete che quanto io amo distruggere le cose fatte male da chi le fa male solo perché è famoso poi magari è bellissimo no no Don Flavio verissimo si risparmia ma siccome non lo voglio comprare lo spin off risparmia di più a non comprarlo ma niente mojiko è la tizia che ha fatto il manga cringe entai di vulpesco e fu così che diventa tutto può essere tutto può essere poi arriva Crazy Food Truck volume 1 Yora Salto a Pearl Harbor il nuovo volume di Beyond the Clouds che è quello francese che ne usciva un po' di tempo fa ma io penso proprio di Sea Cheval ma si sarà reso conto di non essere capace Call of the Night ok e poi abbiamo il secondo no terzo si il terzo numero della loro di Danwich Insomniac After School 10 Polaris Will Never Be Gone 3 e World of Regretti Witches che è sempre molto witchoso e basta direi e poi ci sono le robe digitali ok poi BD cosa fa di bello BD? nulla nulla punto sul nulla dal 18 maggio abbiamo una notizia di dat con una data incredibile il 18 maggio esce questo quello di Rare 2 non mi sembra bellissimo visivamente però vediamo bello sembrano quei quei trailer Marvel brutti ma fatti o peggio wow ebbene è pinnato poi c'è Frontier che esce non si sa e in arrivo a maggio quando o perché non ci mettono le info io vorrei le informazioni mettetemi le date vi prego tra l'altro perché questo è su Jpop nelle news ma nel catalogo è su edizioni BD e che cazzo senza audio non lo accendo l'audio Giulio un po' Love Seek invece è già uscito non si capisce un cazzo niente non si capisce un cazzo che vita difficile poi vabbè facciamoci due risate 12 aprile no è già passato ma cos'è uscito il 12 aprile non mi ricordo wow e niente poi Ikari me ne apro un po' dai facciamo Ikari Coconino Magic Press Toshokan Toshokan non esce niente lo sappiamo già Ishi Tunue Sito Avenoir Gaijin Musubi Dinit allora Ikari Osamo Tezuka Bomba c'è il 23 maggio però un po' più in là Bomba Megaijin è cosa è Renoir manga ma è una bomba vabbè scusatemi direi che non ci sono news in arrivo così a occhio l'uscita di questa settimana questo è uscito tre settimane fa va bene ok Coconino Coconino già visti questi sono settimana scorsa anche se non c'erano ancora quando abbiamo guardato ma vabbè ma che ne so Giulio ne parliamo quando arriva è tutta una pittura nel corridoio quanto è per noi che spinge il carro ok Italia esce il 31 maggio proprio un po' tardi 31 maggio 10 maggio ma scusa non l'avevamo già detto la settimana scorsa questo è tornato nuova data va bene ok perché Coconino esce la novella dell'avventuriero di nuovo e vabbè poi abbiamo comunque ha avuto successo eh non dire non rispondere non dire niente sai zitto ok Magic Press Skip Beat basta niente Skip Beat le uscite di maggio ci sono Notre Dame de Paris Deminence in Shadow Wvv6 2 Tettone 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 ricordatevi di comprare l'ufficio delle tentazioni mi raccomando Skip Beat la maledetta vampira la maledetta vampira Tettone insieme per sempre le due facce di Tam Crimson Spell Tettone non volevo mettere like ma ormai l'ho messo quindi niente questa settimana perfetto grande maggio per Magic Press non lo prenderò con fan comics e non dovrebbe comprarlo nessuno il cofanetto di Deadpool a uccidologia perché chi lo prende è un cretino perché sta comprando una roba overprezzata soltanto perché Panini glielo propone in un'edizione che non ha nessun senso fare quattro cartonati extra size di 96 pagine l'uno facendoli pagare un fottio e comprarseli vuol dire essere cretini grazie detto questo Panini poteva fare esattamente le stesse cose facendo un singolo volume cartonato e facendolo pagare molto meno e invece no perché perché la gente è cretina e compra le cose a culo grazie dicevamo Ishin Ishi principale Frente Imperfetto Bocci The Rock Buon primo maggio Bocci The Rock è disponibile il primo quindi settimana scorsa non c'è fare un cazzo quindi perfetto va bene cinque giorni fa giustamente non scriviamo quelle robe quando escono scriviamole mesi dopo non fare sub-shaming alla gente non si fa comunque poi abbiamo Tuno E cos'è sta roba chiuditi esce qualcosa di nuovo per Tuno E non mi sembra sembra la stessa roba Ellie volume 3 ma non me ne fai un cazzo ciao forse più di 70 non mi ricordo però rimanisco non ha senso è un volume che non ha senso di esistere in quel formato lì questa è Renoir per Renoir abbiamo qualcosa di nuovo non lo so perché non si capisce una mazza anche in questo fanno troppi posti Renoir non si capisce una minchia c'è Gregory Panaccione però al salone e Giampiero Casertano e basta questo esce al salone ah no questi sono gli ospiti cioè Elin Hoffner e Christopher grandi e Gianluca Buttolo o Buttolo e Roberto Luciello e vabbè risolverei che non esce niente se non se ne è accorto oh comunque c'è una venuta Gaijin esce qualcosa non credo no direi anche qua nulla Musubi Comic Con vabbè siamo un po' indietro Musubi è uscito colorless 2 questo esce tipo il 29 maggio e quindi niente ok di Neat nuovi prezzi ci nomezzavo al comico le novità di Neat però gli annunci delle uscite no perché non ci piacciono che palle perché gli editori mi odiano cioè non in questo senso perché gli editori ci odiano mamma mia voglio voglio della comunicazione io voglio della comunicazione per riuscire a fare bene le cose è una costante sofferenza per me veramente non si sa mai un cazzo non c'è mai un cazzo di modo comodo per sapere cosa esce questa settimana mio dio aiutatemi editori fatelo per voi non per me fatelo per voi e nulla non c'è un cazzo è un po' la settimana del manga non vorrei dire però poi abbiamo saldapress e abbiamo bao saldapress 10 si esce Grimm volume 3 e vabbè ma allora io capisco che purtroppo le case editrici allora ma non è vero che valla perché comunque non devi farti il saltino su tutti gli editori il problema è che purtroppo non tutti allora posso dire che dal mio punto di vista non dovresti nemmeno farlo uscire lunedì le uscite di quella settimana jpop che sono probabilmente quelli che hanno la comunicazione migliore dal punto di vista instagram il post lo fanno il venerdì cioè tu il venerdì sai cosa esce settimana prossima e cazzo se hai il modo giusto di farlo se tutti facessero non dico identico ma così ma sai quanto sarebbe più comodo tu sai il venerdì che di jpop escono queste robe qua sempre cazzo con la maggior parte e in più sono molto bravi perché tu guardi l'instagram di jpop e non so non è tutto mischiato che non si capisce un cazzo perché loro hanno questo tipo di visualizzazione e questo tipo di visualizzazione sono le uscite hanno questa e questo tipo di visualizzazione sono le uscite del mese probabilmente hanno un app grazie della fan della sub fan comics 90 se vuoi unire il gruppo sub punto esclamativo sub mamma mia no panini c'ha il sito che funziona allora da questo punto di vista c'ha il sito che funziona nel senso che è comodo vederlo anche star però le loro pagine instagram no perché panini devi aspettare il giovedì per sapere le uscite cioè il giovedì della settimana in corso ti scrivono le uscite di quella settimana cioè non è il massimo poi è fatto bene Nino anche su instagram ma fortunatamente il sito panini il lunedì più o meno è attendibile star uguale star io ero sul sito devo dire che su instagram non ho mai provato però star da questo punto di vista c'è di star ragazzi cioè noi possiamo vedere le uscite poi per carità possono esserci delle modifiche ma hanno le schede fatte fino a settembre no beh settembre no non è vero fino al 25 giugno cioè tu fino al 25 giugno sai già cosa esce la settimana poi magari c'è qualche modifica perché può sempre succedere però le hanno già fatte cioè loro hanno già tu sai già che il 25 giugno trovi foro Night of the Apocalypse 15 minchia cioè oggi è il 6 maggio direi che è funzionale e fra poco pubblicheranno anche quelle di luglio probabilmente purtroppo gli altri non hanno una persona incaricata di fare ste robe non è il massimo ma anche perché non parliamo di editori che hanno che sono panini cioè panini c'ha quante uscite ogni settimana 40 minimo capite che una BD potrebbe farlo tranquillamente cioè salda press non ha bisogno salda press ha una o due uscite a settimana però vai sul sito e le trovi senza problemi BAU anche più o meno con gli altri è inseguirli cioè è veramente cercare di capire chi è e BAU e uno non può star lì a inseguire l'editore lo trovo sempre un po' scomodo a inseguire l'editore ora BAU BAU le vedi qua bene o male devi star lì ad aprirle non è il massimo ci sono sinceramente siti che lo fanno meglio però lo apri e vedi cos'è uscito cioè questa qua in realtà è uscita la settimana scorsa continuo a vederlo sto fumetto grazie Leda per il ride siamo quasi in finale però grazie benvenuti bentornati ben patati vabbè in realtà esce Zero Calcare questa settimana anche se ancora non l'hanno perché esce il 7 io però lo piglio al Torino sperando di riuscire a prendere la versione Variant se poi riesco anche a farmela fotografare schecchettare da calcare meglio mi porto anche il poster se mi fa la firma sopra sono contento sì la Variant di Ken buh arriverà però lì ragazzi spesso col Giappone ci sono problemi di edizioni di robe per cui capita purtroppo per cui ciao Leda e c'è altro che esce vediamo questi qui quando escono giusto per capirsi abbiamo 10 maggio 13 maggio non è sempre questo mese è sempre questa settimana è venerdì ma è anche questo esce in teoria la soglia di Claudio Cicciarelli e Arbi Longo poi questo esce il 17 maggio questo esce il 31 maggio io lui e il gatto ce l'abbiamo la preview di Cialcare no niente preview per Cialcare ok abbiamo queste due basta direi che abbiamo finito non è che ci sia tutta sta roba a parte i panini settimana abbastanza calmina cioè più che altro sono volumoni però sì Mattia però va anche detto che la comunicazione al pubblico non è arrivata perché è un discorso e se il canale di vendita comunica le fumetterie guardate che non arriva ma un altro discorso è non avere alcun tipo di comunicazione con la col pubblico perché insomma boh annunci e poi puff la gente lo aspettava per il Comic Con puff magari esce magari hanno sentito Tezuara se lo portano a Luca e esce per Luca non lo so devo capirle un attimo le uscite adesso me le devo riguardare tutte comunque va bene direi che ci salutiamo qua faccio il video lo pubblico e poi vado a cagare e ho appunto no appunto il pubblico non è stato comunicato almeno io non ho visto comunicazioni panini le comunicazioni come sappiamo non è proprio il loro pane diciamo è un po' una cosa tantino ah secondaria mi si è attorcigliato il collo che male ora da chi vi mando non lo so da nessuno posso non farvi il ride dai ditemi chi volete oggi accetto consigli ma non devo cagare davvero era un andare a cagare in senso metaforico su se ancora non mi sembra sia la uscita ma si è lì sopra e ormai è è una top streamer una scena ma sembra sia live andiamo andando a scena che non la becco mai in live va bene dai noi ci vediamo domani alle non lo so 18 ma forse prima vediamo se anche domani mattina faccio la live oppure no devo pensarci devo vedere come va la vita e potere pelato a tutti ciao ciao